Ciao, e oggi facciamo il testo di search, field test, in l'beautiful wood, con il nuovo metallo-detector Nocta Double Score. Guarda l'beautiful forma e design, molto leggero, solo 1.2 kg, l'beautiful wood in telescopic carbon, underwater a 5 m, e simultaneamente multifrequenza. Questo è il metallo-detector simultaneo multifrequenza, con il miglior prezzo nel mercato. Ora, avviso la macchina, sensibilità 9, profondità 12, multifrequenza, sniffer del campo EMF, campo e procedura di stabilità. Perfetto. Il detektore ora è silenzio e faccio il balanzo. Come l'intenzione di Nocta di fare un detektore molto semplice di usare e la macchina turn-and-go. Ora, in un minuto e alcuni commenti, vedete che il detektore è pronto per usare. Ora, seleziono per il balanzo. Guardate il icono di blinca, sono pronti per il balanzo. I select a clean place to ground balance the detector. Here, I keep pushing the key and I turn low and height, low and height. And now the machine is balanced. I ask from the mode and the detector is ready to use. Perfecting balanced in this soil. I keep pushing the pinpointer for center the object. 43 of 60. It is already a good object because the maximum VDE number is 60 and 43, 45 could be from copper, bronze, coin. It is good to make a dig. And listen, 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 listen the stability of this beautiful metal detector. It is perfect. At the bottom of the lab for a beetle. 90. I change the stabilization. 45, good object, good target. It is for a good dig. Olè, 54, molto bene, pin-pointing, 54, 54, and, and look what it is, and beautiful aluminium religious medal, 54, perfect, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 35, 35, 35, 35, 35, Sì, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. sensibilità per un buon target. Il display mostra il VDI con molto precisione e è molto utile. Per capire il detettore sono molto felice perché è un detettore leggero, grazie per i carboni, sono circa 1 kg, e sono in acqua di 5 metri e simultaneamente, multifrequenze, anche il miglior prezzo della metà di metà di metà di metà di metà di metà e di simultaneamente, multifrequenze, light-weight, professional, con il carbone. Io, dal mio opinion, della distribuzione di 30 anni nel mercato del metà di metà di metà, è un detettore molto buon metà, a un buon prezzi per tutte le performance, buon prezzi, le pinze, quasi 50 cm, buon prezzi, buon prezzi, ma specialmente buon prezzi, e mi suggerisco di comprare questa bella macchina, il Noctal double score, bye bye, ah, ho dimenticato, se vuoi comprare questa bella macchina, e non ha nemmeno a te un distributore o noctal, puoi guardare la web, www.metaldetector24.com and place your order, and we reserve you a really good special price and service, that is the website www.metaldetector24.com, bye bye.